poste italiane con open house roma apre le porte di due palazzi storici in via marmorata e di piazza bologna poste italiane partecipa per la prima volta open house roma l'iniziativa che celebra il design e l'architettura e apre ai visitatori le porte dei palazzi delle poste di via marmorata e di piazza bologna due opere considerate tra i modelli più rappresentativi dell'architettura razionalista in italia nell'edizione di quest'anno oltre 200 siti archeologici e palazzi storici saranno aperti al pubblico un intero weekend per riscoprire una roma inedita grazie a visite gratuite guidate da architetti studenti e volontari specializzati il palazzo delle poste roma ostiense in via marmorata venne progettato negli anni apostrofo 30 da ad alberto libera e fu successivamente completato da mario dei renzi quello di roma non mentano a piazza bologna fu disegnato da mario ridolfi e ospita anche l'archivio storico di poste italiane un vero e proprio tesoro di documenti fotografie filmati e oggetti d'epoca che raccontano più di 150 anni di storia dell'azienda e del paese nel corso degli anni i palazzi postali sono stati sottoposti a interventi di restauro e ristrutturazione mantenendo tuttavia intatto il loro valore estetico e architettonico e continuando a svolgere la loro funzione originaria fino ad oggi poste italiane ha scelto i due edifici di via marmorata e piazza bologna perché esprimono perfettamente lo spirito dell'edizione 2018 di open house roma che intende valorizzare il fattore umano dei siti aperti al pubblico come elemento essenziale per l'ideazione la trasformazione e la fruizione degli spazi urbani e dell'ambiente circostante fattore umano che è essenziale nel lavoro quotidiano di poste italiane e nella relazione con i cittadini che ogni giorno entrano nei 12.800 uffici postali presenti su tutto il territorio nazionale le visite nei palazzi si svolgeranno nella giornata di sabato 12 maggio dalle ore 9 e 30 alle 12 e dalle 13 e 30 alle 17 per la visita non sarà necessaria la prenotazione all'evento sarà dedicato un annullo filatelico speciale realizzato dalla filatelia di poste italiane poste italiane è la più grande rete di distribuzione di servizi in italia le sue attività comprendono il recapito di corrispondenza e pacchi la logistica il risparmio i servizi finanziari e assicurativi e i sistemi di pagamento poste italiane offre i propri prodotti e servizi ai cittadini alle imprese e alla pubblica amministrazione con un approccio multicanale che integra la rete dei 12.800000 uffici postali con l'accesso ai servizi attraverso internet e le applicazioni digitali le piattaforme tecnologiche e logistiche avanzate la presenza capillare e il profondo radicamento sul territorio nazionale fanno di poste italiane un protagonista nel processo di innovazione e di estensione dei servizi digitali in tutto il paese e quindi